Natale! Natale, signori, bisogna andare a messa. Non si va a messa tutto l'anno, ma il 24 sera devi andare a messa. Li riconosci quelli che hanno ancora il cappotto con l'etichetta? Quelli con i guanti appena regalati che non li hanno ancora staccati? Kiri e Langson? Allora funziona così, esci dalla messa, vai con gli amici a ubriaccarti, poi dormi dalla mamma. Tu torni alle 4 del mattino, lei alle 7, vieni di là e ti dice, sono tutti di là. 2000 parenti, trovi lo zio che non vedevi dal 61, quello che quando eri piccolo ti faceva così sulla testa, che tu dici, fallo adesso che ti scasso di botta, provo a farlo adesso. Allora, nelle famiglie di tutti gli italiani c'è la mamma che apparecchia dalle 6 e mezza del mattino, c'è un piatto in ceramica col grissino, col prosciutto crudo morto arrotolato così, le tartine di gelatina, quella col gambero, così, quella con l'uovo che diventa gialla dopo un minuto. La mamma prepara il primo, il secondo contorni, arriva il momento dei mandarini. In tutte le famiglie c'è il nipote cagacazzo che con la buccia ti suona dici, zio, ti giri l'acido negli occhi. Poi, aspetta, è finita, arriva la frutta secca, un versoio così, un solo cazzo di schiaccianoci, che c'è lo zio che dice, le spacco io, sta fino a Santo Stefano con le noci in mano così. Il nonno verso le quattro lo metti sul divano, lo metti su Italia 1 che guarda, Zanna Bianca, 1, 2, 3, 4, 5, Fanta Chirò, 7, 8, 9, 10. Alle otte e mezza il nonno con la bava comincia a ondeggiare. Tira sul nonno, tira sul nonno, lui mi fa per scoraggiare, sì o no? Poi si comincia con quei giochi lì, quelli di società, verso le sei e mezza. La tombola, c'è lo zio quello che ha fatto i soldi, sì ma la scheda facciamola da mille euro, ma la cagava. Poi c'è il mercante in fiera, tutti che vogliono comprare sto lattante. Poi alle cinque chiami la tua fidanzata, tu c'è ancora il pandoro che ti esce di qui e lei ti dice, ciao amore, andiamo a mangiare qualcosina? Minchia, no, con le cotolette ancora sotto le ascelle. O se la decidi di andare al cinema? Se vai al cinema il giorno di Natale, esci dall'ascensore, sei già in fila, c'è tutta la gente. Che film va? Che cazzo adesso seguo la fila, da qualche parte andrò. Io quando sento Angelo parlare dei bambini mi emoziono, perché anch'io sono papà di una bambina di nove anni che amo più della mia vita e mi sono accorto di quanto è difficile il ruolo del papà. I problemi che abbiamo avuto per avere questa bambina. A mia moglie gli si ruppero le acque, io ero a fare uno spettacolo all'isola d'Elba, lei con tutta la sua carineria mi chiamò, vieni a casa, ha rotto le acque! Sono arrivato un po' di ritardo dall'Elba, clinica, sala operatoria. A mia moglie gli hanno fatto una puntura di preanestesia per abituarla all'anestesia, all'ostetrica, veloce, in nome della bambina perché devo fare documenti. Io gli ho detto stai calma che ti do una bastonata, stai calma. Mia moglie con un filo di voce si girò, ancora mi viene in mente con un pizzico di magone, mi disse chiamiamola come mia mamma. Io di chiamare stronza mia figlia non ce l'ho voglia. Sono finite le feste, a me ha rotto il pandoro, lo zio, quello che per la casa gira, che vuole tagliare la stella, taglialo non vale! Cosa continua a tagliare la stella che non si capisce stagli 25 minuti? Poi, quando eri giovane, il Capodanno lo vivevi in un modo differente, finivano le vacanze ad agosto, già a settembre ti vedevi con gli amici, oh, cosa facciamo a Capodanno? Adesso a 52 anni, a mezzanotte, a meno 10, non si è ancora due c***i a dare. No, ma si facevano le feste in casa, ognuno portava cosa a mangiare? Le lasagne, la pasta al forno, il Vitteltonè con dei capperi dentro da un chilo. Mi dice scusa, cos'è questa cosa? Capperi, di chi? Del bambino del terzo piano di sopra. Con quelli che lasciavano l'ascensore, sai, dietro la porta di là, e li mettevi sul Vitteltonè, che già verso il 12-10 avevi un'acidità, sentivi, oh, oh, poi a Capodanno questa storia che se non fai l'amore tutto l'anno, a Capodanno non fai l'amore tutto l'anno. Allora, quando eri giovane, verso le 3 del mattino ero ubriaco, fradicio, cercavi un altro ubriaca, si girava per la festa. Travi un'altra ubriaca, andavi a letto. Nel letto continuavo, vomitavi tutto, non si strombava mai. Il giorno dopo, verso le telepoveri giù, ti svegliavi, la trovi nel letto e gli dici, scusa, ma non abbiamo consumato lei. Eh no, ormai è l'uno, arrivederci, e non trovavi più. Aspetta! Poi, le differenze, i nostri capodanni, le micette a mezzanotte, le trombette, i cappellini, quelli appunto con le penne. Adesso ci hanno delle bombe? A mezzanotte, sai quando vengono giù gli stadi in America che li demoliscono? Uguali. Poi buttavi la roba vecchia. Un mio amico ha buttato la moglie, era vent'anni, che era insieme ma fa c***o. Ma poi c'è questa storia dei cani, eh no, eh no. Bisogna proteggere i cani, eh. Dalle undici a mezzanotte i cani, i coccolateli. Ai miei tempi, il cane aveva l'accendino, mi diceva, oh Pucci, accendi la bomba. Ma poi, scusa, quella storia che dopo mezzanotte devi mangiare sto c***o di cottecchino con le lenticchie. Allora, lo mangiavi a vent'anni, facevi, un ruttino, a posto, stavi. Mangialo a 52. Vai in camera e cominci. Le lenticchie, sennò diventi povero non diventi ricco. Ma è una c***ata. Io ho fatto il capodanno a casa di Briatore, un giorno ho detto, scusa, le lenticchie non le ho mai mangiate. È miliardario, che c***o c'è? Aspetta! Lo spumante ai miei tempi. Lo vincevi a Lula Park, le varesine, seguo quello zuccherato. Costava 100 lire. Adesso ci vuole il Crystal, quello da 280 euro, che quando ti scappa la pipì dici, no, non lo piscio, lo tengo dentro, 280 euro. Ma il panettone! Il panettone era normale. Poi c'era quello che mangiava, che non gli piacevano i canditi e da sotto al tavolo faceva. Diceva, che c***o fai? I canditi non mi piacciono. E li sputava tutti sotto al tavolo. Adesso fanno dei panettoni, vai in pasticceria, mi dà quello. C'è il panettone così, sopra la torre Eiffel, con sopra le torri gemelle, tutto in cioccolato. Che c***o mangia a fare? Costa 4000 euro, lo lasci in casa e lo guardi così. Ma poi alla sera di Capodanno bisogna bere il succo di alcolici, se no sei un c***o. Il Moscow Mule. Hai bevuto il Moscow Mule? C'è lo zenzero. Per 12 minuti, da mezzanotte a mezzanotte e 12 fai. I cintoni! Adesso, fermi! Adesso ha 52 anni, verso le 2 di notte, facciamo un mosco minuto. Fammi la tisana, fammi la tisana, vado a dormire. Ma poi il giorno dopo guardo il telegiornale, studio aperto. Ah, a parte, vediamo i filmati di 12 ore fa come hanno festeggiato in Australia. Che c***o! Poi c'è un'altra notizia, c'è stato un grosso calo delle vendite durante il periodo natalizio. È logico, perché l'azienda, non è che siamo tutti deficienti, quando vai dal tuo amico che fa il commesso, quanto costa questo cappotto? Leggi 800, lui dice, vieni 26, ci sono i saldi, te lo lascio a 110, vieni 26. È logico! Ma aspetta, fai l'oroscopo! Mamma, che c***o è l'oroscopo! Perché poi non c'è un segno di cui non è l'anno giusto per quel segno. Qualsiasi segno, tutti. Ariete, ah, c***o è il mio anno! Tutti! Quindi godiamo tutti di questa roba. Poi arriva la Befana, tra pochi giorni arriva la Befana. Che festa è la Befana? Dimmi, allora, la Befana viene di notte con le calze tutte rotte, già è sintomo di povertà. Io quando ero piccolo mettevamo le calze del nonno, che puzzavano. La Befana diceva, andate, la fanculo, andava via anche la Befana. Poi ti mettono dentro il torrone e il carbone. Io a sei anni ero senza denti. Ma non per i denti, per mordere il carbone e il lattone. Avevo l'apparecchio dell'Alitalia. Detto questo, signori, sono qua per augurare a tutte le famiglie un felice anno nuovo, ma che ci sia tanta salute in tutte le famiglie.